Un saluto a tutti amici del web, sono TatoBax e bentornati sul mio canale. Questo è un video che uscirà in bundle con l'altro mio video, la mia top 10, la top 10 delle migliori 10 console di tutti i tempi, che se non avete visto vi invito a guardare, lascio qui il link con un'annotazione e lascio anche il link in descrizione. Dovete vedere prima quel video, prima di vedere questo, dato che questo video è un extra a quello e contiene degli spoiler, delle considerazioni sulle cose che dico in quell'altro video. Per questa motivazione, se non l'avete visto, vi invito a guardarlo. Bene, ora darò per scontato che voi quindi quel video lo abbiate visto e mi dilungherò in qualche informazione extra, considerazione sul video appunto. Top 10 console of all time. Allora, la prima cosa che volevo dire, la cosa più importante, è contro le console war. Voi sapete benissimo che io sono un grande detrattore delle console war e questo video per me non fa eccezione, io questo video non l'ho fatto per scatenare console war. Ora, spero che nel frattempo sotto l'altro video non ci siano commenti troppo degeneranti. Il Lina di Massi è un pubblico molto maturo, quindi non mi preoccupano i commenti del mio pubblico. Mi preoccupano, devo dire la verità, i commenti delle persone che potrebbero venire da fuori e probabilmente questo video non lo vedono nemmeno. Comunque, è chiaro che una persona che compra una console, l'unica cosa che guarda, fondamentalmente, sono i titoli, i videogiochi. Anzi, io invito a guardare esclusivamente i videogiochi per acquistare una console. Io stesso, che non ho piazzato né la PS3 né la PS4, vabbè la PS4 è uscita da troppo poco, ma non ho piazzato la PS3 nella classifica, ho comprato una PS3. La mia prima console che ho comprato è stata una PS3, perché a me interessavano i videogiochi che offriva. Ok? Quindi, per fare un esempio, una console che sono sicuro diversi di voi avrebbero piazzato in testa, come la PS2, perché è a metà classifica? Non perché non riconosca il parco titoli. Io ho acquistato una PS2, ho acquistato una PS2 e non ho acquistato un Super Nintendo o un Nintendo Entertainment System. Perché? Perché mi interessano i videogiochi. È chiaro, a tutti i videogiocatori interessano i videogiochi. Quindi la console war, intesa come qual è la miglior console, sono ancora d'accordo, penso ancora, tuttora, anche dopo che ho fatto questo video, che non ha senso parlare di quale sia la miglior console. Per noi, videogiocatori. Ed è per questo motivo che questa classifica che ho scritto non si piazza come una classifica che deve essere un verdetto su quale sia la migliore console da acquistare. Ma è un, come dire, è un articolo, vuole essere un articolo di riflessione sulle console che hanno avuto il maggiore impatto sulla storia del mezzo. Quindi, da un punto di vista esterno. Come dire, ho provato a scegliere le 10 console che hanno avuto, appunto, un impatto, una carica innovativa, sono state importanti per il mercato dei videogiochi in senso generale. Ma fondamentalmente a noi videogiocatori, nel momento in cui compriamo una console, è chiaro che non ci interessa quanto è importante quella console. È chiaro. Però, da un punto di vista di carica innovativa, di importanza nel mezzo, suppongo che siamo tutti d'accordo che Nintendo Wii ha portato, per fare un esempio, una carica innovativa più grande di PS3 e Xbox 360. Ma ciò nonostante io stesso ho comprato PS3. Perché i videogiochi che mi interessavano erano di PS3. Quindi, una volta detto questa cosa, che è fondamentale dirla, perché, ripeto quello che ho detto all'inizio del video, non sono le mie console preferite. Perché io come console ho comprato altre, anzi, io ho la PS2, la PS3 e la PS4. E Nintendo Wii U. Quindi, in realtà, nessun titolo, nessuna console tra quelle che ho messo in testa. Però, reputo quelle più importanti di queste altre. Ma io ho preso queste altre per i videogiochi. Comunque, credo che il discorso si sia capito. Quindi, volendo fare qualche considerazione, quindi, sulla classifica, fatte queste premesse, volevo notare questa cosa. Allora, innanzitutto, il numero di console presenti delle varie case. Con un titolo, scusate, con una console, con una sola console, sono presenti Atari e Microsoft. con ben due console, sono presenti sia il SIGA, sia Sony, il SIGA con il Dreamcast e il Genesis, e Sony con PS2 e PS1. E vince, dal mio punto di vista, la casa con il maggior numero di console all'interno della classifica, Nintendo. Con ben quattro console, che dal mio punto di vista, sono state fortemente innovative. Che sono stati il Nintendo 64, Nintendo Wii, Super Nintendo e NES. Quindi, volendo tirare un po' dei verdetti, della casa, che dal mio punto di vista, è stata la più importante, dal punto di vista del mercato console, dal mio punto di vista, è stata Nintendo. Non solo con ben quattro console, ma con addirittura due console di queste, nelle prime tre posizioni. Quindi, davvero niente male. L'altra considerazione che volevo fare, è se ci fate caso, ci sono tre console, della sesta generazione, tutte in fila. PS2, Dreamcast e Xbox. Intrinsecamente, in questa classifica, io esprimo il mio parere, nel reputare, appunto, in quella sesta generazione, l'Xbox, la console che ha portato una maggior carica innovativa. In più, l'Xbox, di Microsoft, è la console degli anni 2000, più in alto in classifica. Questa è una considerazione importante, perché spesso e volentieri, l'Xbox viene molto sottovalutata, dal mio punto di vista. ma in realtà, Microsoft con Xbox, e anche Xbox 360, ha dato un grande contributo al mercato console. Molto di più in realtà di quanto ha fatto Sony, con PlayStation 2 e PlayStation 3. Dato che Sony ha fatto un'ottima politica, per quanto riguarda la scelta dei videogiochi, e delle esclusive. Ma da un punto di vista proprio di impatto, di innovazione, non è stata innovativa quanto Microsoft, che ha portato tante cose, sia con Xbox, come ho detto nella classifica, sia in realtà con la 360, che dal mio punto di vista, come carica innovativa, Nintendo Wii, chiaramente nella settima generazione, si piazza al primo posto, infatti è presente nella classifica, ma subito dopo viene la 360, che è stata molto più innovativa, e della PS3. In realtà la PS3, ma ripeto, io ho la PS3, non ho la 360, per dire che a me alla fine interessano i videogiochi, però, se ci pensate, la 360, oltre ad aver anticipato, per fare un esempio, gli achievement, gli achievement sono nati, li ha inventati Microsoft, dice, ma che saranno mai? Sì, eppure gli achievement è una cosa che oggi sono dappertutto, ci sono i trofei, su PlayStation, ci sono gli obiettivi su Steam, insomma, c'è un po' questa politica, degli achievement, che lei ha inventato la 360, così come ha introdotto l'HD, l'HD l'ha introdotta la 360, così come ha introdotto le tecnologie wireless, e tutt'oggi, uno dei joystick migliori, di tutti i tempi, è ritenuto proprio il controller della 360 wireless, probabilmente superato solo dal controller dell'Xbox One, per dire che ha fatto diverse politiche interessanti, Microsoft, negli anni 2000, dal mio punto di vista. quindi potremmo dire che gli anni 2000 sono stati un po' l'anno di Microsoft, con, per quanto riguarda i videogiochi, con diversi errori di percorso, però fatti sul mercato PC, come Games for Windows Live, era un'ottima idea, cioè Microsoft ha puntato molto sui giochi, questa è una bella cosa, che Microsoft abbia puntato molto sui giochi, anche se non le ha azzeccate tutte, anzi, Games for Windows Live, non l'ha azzeccata, e Windows Vista, ma non era sui videogiochi, era un sistema operativo. Insomma, diverse cose non ha azzeccato Microsoft, però non si può dire che non si sia mossa. Negli anni 90, invece, l'avete vista in seconda posizione, quella che ha fatto da padrone è stata la PlayStation 1, quindi Sony. Non c'è che dire, gli anni 90 sono stati invece gli anni di Sony, che già solo con la PlayStation 1 ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi. E, beh, non c'è nulla da aggiungere. La storia la sappiamo tutti, in più l'ho già detto nella classifica. Quindi, gli anni 2000 sono stati di Microsoft, gli anni 90 sono stati di Sony, e gli anni 80 sono stati di Nintendo, fondamentalmente, e gli anni 70 di Atari. Ecco, volendo un po', fare un po', per così dire, prendetela con le pinze, è chiaro che ci sono tante sfumature, però, volendo dire un po', le case che hanno avuto più impatto sono state negli anni 70 Atari, poi gli anni 80 Nintendo, poi gli anni 90 Sony, e gli anni 2000 Microsoft. E, in tutto questo, è davvero un peccato che SIGA si sia sempre piazzata un po' al secondo posto. Cioè, il Genesis sia stato sempre un passo dietro il Super Nintendo, il Dreamcast sia stato sempre un passo dietro la concorrenza, così come il Sega Saturn. Per dire, non so se lo sapete, ma Tomb Raider in realtà era nato su Sega Saturn, poi ha raggiunto il successo su PlayStation, ma in realtà era nato su Sega Saturn. Per dire, diverse cose che in realtà SIGA è stata molto, anche un po' sfortunata, e probabilmente non si è saputa muovere, anche un po' a livello di marketing, probabilmente, perché in realtà ha sempre offerto delle cose abbastanza innovative, però poi non è mai riuscita ad andare fino in fondo. Quindi un po' si classifica come l'eterna seconda di questa storia. Io, per non saperne leggere e scrivere, ho comprato recentemente questo libro, che è Console War, che parla appunto della storia che ha contraddistinto gli anni 90, cioè Nintendo contro Sega. Io sto cercando un po' di farmi tra virgolette una cultura del mercato console, dato che del mercato PC l'ho vissuto sulla mia pelle. Ho letto diverse cose proprio durante la mia crescita, sia dal punto di vista come persona sia come giocatore. Invece il mercato console lo sto scoprendo negli ultimi anni e sto cercando di, tra virgolette, ripeto, studiare tutte queste varie cose per cercare di farmi un'idea, perché il mondo dei videogiochi è bello e interessante tutto. Ed è per questo motivo che, ripeto, lo scopo di questo video non vuole essere quello di generare Console War, ma di essere un articolo che possa essere informativo, spero l'utile, per la maggior parte di voi. Bene, detto questo, ho registrato fin troppo, io vi ringrazio dell'attenzione, spero che si sia compreso il senso quindi di questo video e dell'altro, e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti e grazie dell'attenzione. Ciao!